Ciao a tutti da Walter e da Franca, ma oggi volevamo parlare un pochino di quello che sta succedendo, di quello che sta capitando in questo periodo assolutamente surreale, viviamo questo periodo ed è forse la prima volta, anzi sicuramente la prima volta che lo viviamo e non l'abbiamo mai sperimentato, è un periodo strano, un periodo che comporta rinunce, che comporta ridimensionamenti, comporta anche isolamento, impotenza, frustrazione, moltissime cose, quindi è un periodo nel quale siamo costretti a rinunciare a un sacco di cose, non possiamo uscire, non possiamo avere degli impegni perché sono tutti saltati, non possiamo svagarci o quantomeno andare in un ristorante, andare al cinema, viaggiare, insomma tutte le libertà sembrano un pochino essere pregiudicate e siamo completamente impreparati perché ci scopriamo improvvisamente fragili, giusto? Sì, fragili e proprio vulnerabili. Per una capricciosa coincidenza, ma guarda caso, siamo invece in un periodo di quaresima, cioè veramente siamo quasi prossimi alla Pasqua. infatti tutto questo, almeno per la nostra regione, è iniziata la quaresima ed è iniziato si può dire la quarantena, perché mi ricordo che la celebrazione delle ceneri non abbiamo potuto farle, però c'era ancora la possibilità la domenica di andare a messa e dopo la messa straordinariamente erano state impartite le ceneri. Sì, quindi la quaresima, e nella quaresima teoricamente, intanto c'è da fare una domanda, la quaresima, noi eravamo abituati a viverla in un certo modo, secondo me piuttosto superficiale. Sì, con delle piccole rinunce, io mi ricordo che a volte si diceva in quaresima non mangiamo i dolci, rinunciamo alla cioccolata, cerchiamo di vedere meno televisione, di essere meno presente sui social, però così in modo abbastanza superficiale. Però per chi crede qualche rinuncia ci pensava quantomeno, anche se poi non riuscivamo a rinunciare perché comunque non siamo molto testimoni come cristiani nel nostro tempo purtroppo, però a qualche rinuncia ci pensavamo, mentre veramente chi non crede, secondo me per chi non crede la la quaresima non aveva nessun senso e lo legava a cose che aveva visto, che aveva sentito nella catechesi, dai catechisti quando era piccolo, per cui una cosa infantile, quindi non mangiare la carne al venerdì, fare qualche piccola rinuncia, però questa cosa era molto superficiale. Di fatto secondo me forse il credente è un pochino più attrezzato rispetto al non credente a vivere questo periodo, io vedo che ci sono, cominciano ad esserci anche tanti presidi psicologici per le persone che veramente cominciano a sbiellare, cominciano a sbarellare, detto in termini moderni, per cui veramente non riescono a sopportare questo tipo di isolamento, questo tipo di situazione e quindi assistiamo a cose stranissime nei social, ad esempio queste panificazioni, stanno diventando tutti panettieri e abili pizzaioli, dispensatori di buoni consigli e poi magari non si riesce neanche a farli, ad attuarli i consigli, ma anche noi siamo così in questo modo, ecco, piazzati. Secondo me i credenti hanno qualche possibilità in più, i veri credenti, insomma quelli che cercano di attuare nella vita quello in cui credono. Credo anche che ci sia una categoria di persone, la quasi totalità delle persone di questa categoria, non tutti perché ci sono anche delle oggettive ulteriori difficoltà, ma penso ai disabili, alle persone disabili con handicap. Credo che da un punto di vista psicologico, parliamo esclusivamente da un punto di vista psicologico, sono più avvantaggiati, perché già sono abituati alle rinunce quotidiane, cioè se io devo andare al cinema, devo aspettare che qualcuno abbia voglia di andare al cinema, di venirci con me. Se devo andare ad un ristorante, devo aspettare che gli amici abbiano voglia. Se devo raggiungere una località, devo aspettare che qualcuno mi ci accompagni. Quindi secondo me l'esercizio della rinuncia e la pazienza e l'accettazione anche di queste cose, perché guai se non le accettiassimo, se non le accettiamo siamo così costantemente frustrati e arrabbiati e disperati col mondo, insomma. Invece per vivere meglio siamo diciamo anche costretti ad accettare. E' chiaro che la rinuncia non è vera se tu non te la scegli. Ecco, in questo periodo noi non stiamo scegliendo di vivere in questo modo, però se noi imparassimo ad accettarla e allora forse il gioco ci apparirebbe meno pesante. Quindi direi che il tempo di penitenza, di digiuno e di rinuncia, se noi lo vivessimo con un certo stile, potrebbe essere un momento, un'occasione secondo me per vivere la quaresima per quelli che credono, ma anche per quelli che non credono. E credo anche che le persone disabili, proprio per la loro attitudine alla rinuncia, non dico che possano dare delle lezioni, perché qui nessuno di noi può dare lezioni, però diciamo che in un certo senso può dare dei buoni consigli, può dare un esempio e può costituire una grossa testimonianza. Credo che questo sia il messaggio che io vorrei dare, quindi di accettare questo periodo come un'occasione di quaresima per vivere meglio anche la Pasqua, non dimentichiamoci che noi poi dobbiamo arrivare alla Pasqua, che è un momento di festa, che è la festa più grande da un punto di vista liturgico, anche più grande del Natale, ma deve essere una Pasqua anche sociale, cioè una Pasqua per quello che verrà dopo, perché quello che ci sarà è che questa cosa dovrà pur passare, questo periodo dovrà pur passare, però speriamo che non crei dei danni psicologici nelle persone, ma che rafforzi le persone, che possano capire quali sono le cose essenziali, capire che la corsa ad ostacoli e saltando gli ostacoli non serve a niente, capire che bisogna pensare di più a stare a casa. Io vedo tante persone anche importanti che dicono io ero abituato a mangiare, ieri sentivo, vedevo un video di un influencer molto importante che diceva ero abituato a vivere, ho una moglie e una figlia, ma io vivevo sempre girovagando di città in città perché lui fa anche l'attore, fa i monologhi, le conferenze eccetera, quindi lui diceva pazzesco, io alla mattina partivo, facevo la colazione in un posto, mezzogiorno la facevo in un altro e sera facevo cena da un'altra parte. Questa volta invece mi sto riscoprendo che è bellissimo stare con la propria famiglia e stare sul divano a guardare la tv con mia figlia e con mia moglie, poi mia moglie e mia figlia vanno a dormire e io mi vedo altre serie tv alle quali prima non avrei dato assolutamente nessun tipo di, non avrei mai pensato ecco. Quindi secondo me davvero raccogliamo tutte le nostre forze per cogliere questa occasione che ci viene posta, ora non dico che è un insegnamento che ci è stato dato perché dobbiamo capire determinate cose ecco. No però al tempo stesso tu hai detto che questo periodo, questa quaresima del 2020 secondo me veramente alcune cose essenziali che possiamo vivere. Quindi tornare all'essenziale con la riscoperta dell'ascolto perché bene o male forse in famiglia adesso ci ascoltiamo di più, prima non eravamo tanto abituati ad ascoltarci, adesso col fatto che 24 ore su 24 siamo con le stesse persone forse stiamo imparando ad ascoltarci di più. Mi stava venendo in mente quando i genitori ci dicono questa casa, ci dicevano quando eravano giovani, questa casa non è un albergo, no? Nel senso che noi andavamo, facevamo qualsiasi cosa, arrivavamo, mangiavamo. E ci soffermavamo poco. Poco, quindi non ascoltavamo neanche e per cui diventa, adesso per dire addirittura si gioca anche a carte, io no però. Io sì. Lei sì e quindi si fanno cose, si riscoprono cose incredibili, si impara appunto a fare il pane, a fare i biscotti. L'altra riscoperta secondo me importante è quella della preghiera sia individuale che familiare perché raramente ci capitava di seguire anche per televisione delle celebrazioni tutta la famiglia insieme, invece in questo periodo ci stiamo ritrovando a seguire insieme dei momenti di preghiera. Mi viene in mente che ultimamente non mettevamo più la sveglia, adesso mettiamo la sveglia al mattino presto per poter seguire la messa con il Papa. E queste piccole cose secondo me veramente ci portano un po' all'essenziale. E l'altra cosa in questo momento che potrebbe diventare veramente una ricchezza, un momento di grazia, quello della fame eucaristica. Ecco. Il fatto che non possiamo avvicinarci o gustare dell'eucaristia, adesso iniziamo a sentirne la mancanza. E questa mancanza è quella che veramente ci deve far pensare. Sì, e il digiuno ecco perché, veramente anche riscoprire il significato del digiuno, perché noi non riusciamo a digiunare nel senso stretto della parola, cioè dire stasera mangiamo un pezzo di pane, lo facciamo una volta, poi non lo facciamo più, nonostante potremmo anche farlo diverse volte, perché non è che si muore di fame. Anzi, in questi giorni stiamo mangiando ancora di più e ancora meglio. Però il digiuno di alcune cose che fa pensare che veramente queste cose non ci possono più mancare. Il digiuno della comunità, ad esempio. Sì, e quindi veramente si vive il desiderio di Gesù, il desiderio dei sacramenti e questo è importante, perché raramente abbiamo questo desiderio. Quando le cose ci sono date per scontate, a volte non ne apprezziamo il valore reale. Sì, e poi magari ecco la voglia di stare, a volte uno si chiude in casa per uscire da tutta l'umanità, perché non sopporta più stare con le persone. Invece adesso si vorrebbe, c'è questa voglia, io vedo che tutti quanti rimettono Skype, rimettono i vari, la messaggistica, i social, ci stanno molto, perché non trovano altro modo per stare con le persone. Cioè noi siamo esseri animali, siamo esseri sociali, ecco, che comunque abbiamo bisogno di stare insieme. E quando stiamo facendo digiuno di stare insieme, abbiamo voglia poi di stare insieme. E speriamo che anche questo possa servire per creare rapporti di tolleranza maggiori, di lasciar perdere veramente delle occasioni piccole, ridicole, di risse, di liti, di dialettica, che uno deve superare l'altro. E quindi cogliamolo, veramente non possiamo fare altro, c'è anche una questione di furbizia, non è che dobbiamo soccombere a questo periodo, per cui non ci rimane altro che essere più sobri e che crescere, ecco. E poi è una cosa bella di questo periodo, che dove vedi nascere la condivisione e anche il donare anche solo qualcosa di piccolo, la solidarietà, essere al servizio degli altri. Io ad esempio sto lavorando molto per la solidarietà digitale, cioè le persone che hanno pochi strumenti hanno bisogno di imparare ad utilizzare questi strumenti ma per la loro psiche, cioè per la loro psicologia, per stare meglio, per non sentirsi oppressi e isolati. E allora, veramente, a volte la tentazione è quella di leggersi dei libri, di vedersi dei film, di stare comunque nella propria bolla, isolati. Invece io sto facendo di tutto per pubblicare cose, sia tecniche che anche a livello di messaggi, di chiacchierate molto semplici, perché nessuno ha da insegnare niente, per carità, ma proprio per dare occasioni di riflessione e per dare strumenti tecnici alle persone. E questo lo vedo che lo stanno sperimentando tanti, ecco, chi può, con quello che può, e chi suona dal balcone, la mia vicina che ci porta il pane che ha fatto, e noi pure. Cioè, sono tutte piccole cose che dimostrano che c'è proprio voglia di essere solidali. Ok. Direi che a questo punto possiamo concludere qui, per non ripetere sempre gli stessi pensieri. Secondo me, molte di queste cose le abbiamo dette, sarebbe stato bello fare una diretta, ma ancora mancano gli strumenti essenziali, ma quando potremo la faremo, proprio per sapere anche in tempo reale quello che pensano gli altri, per poter discutere con gli altri un pochino queste cose. E quindi anche se questa tempesta, come è stata chiamata anche dal Santo Padre, che smaschera la fragilità, non dobbiamo avere paura di questa fragilità. No. Perché nel momento in cui ci sentiamo fragili, è il momento in cui veramente sentiamo la necessità di attaccarci e di appoggiare a quest'acqua viva che è la fede. Esatto. Bene, con questo vi ringraziamo molto e vi… E magari ci sentiremo anche prima di Pasqua. Esatto. Vi ringraziamo ancora e speriamo che possiate aver apprezzato quello che abbiamo detto e quello che stiamo dicendo. vi chiediamo di mettere dei like, di condividere, di iscriversi. Mi piace questa evoluzione del mio canale, che prima facevo solo le cose tecniche. Bellissimo perché c'è un'altalena di persone che si iscrivono e persone che si disiscrivono. Vabbè, non si può piacere a tutti. No, esatto. E non si deve piacere a tutti perché se uno piace a tutti non ha una posizione ben definita. Del resto io, sia nel podcast che nel blog, mi sono fatto mettere il titolo non di sola tecnologia. Non si vive di sola tecnologia. Specialmente oggi, nel quale oggi tutti magari pensavano, speravano di poter vivere solo grazie alla tecnologia. E con questo motto, non si vive di sola tecnologia, vi salutiamo e vi ringraziamo molto. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.